Ciao raga, come state? Spero bene, è l'ennesima volta che sto riprovando a registrare, speriamo che sia la volta buona. Allora, nuovo video, chiacchiericcio, perché no? Allora, questo video, chiacchiericcio, make-up, perché è make-up e stringo, perché sennò ho la telecamera che mi si sta scaricando. Ero truccata, ma mi sono ristruccata perché mi vantò un enorme bruttissimo male in testa, e quindi mi ero truccata stamani con questa palettina qua di Pic Panda, ovviamente inviata dalla mia carissima amica, un bacione rosso, Rita Cosmetica, questa qua, e mi è piaciuta tantissimo, la sto usando quotidianamente quasi, si direbbe, e mi sta piacendo veramente tanto, quindi non vedo perché non sfruttarla. Questa palette, troppo bella, e ho usato quasi tutti i colori, a partire da questi qua, che non li ho utilizzati per niente, ma gli altri si, e poi questo, sulla tutta la palpebra dell'occhio, questi qua, e poi su questo qua, questo, qua, da questa parte, qua, su tutta la palpebra, quella lì, mobile. Poi, come correttore, come correttore ho usato questo, per correggere l'occhiaio con la beauty blender, mentre, come mascara ho utilizzato questo, cominciò trovando benissimo, ancora, non so quando finirà, ma finirà. Poi, come sopriciorsino, sto utilizzando questi due, essence, questa matita che è l'amina retraibile, l'amina retraibile, no, vabbè, l'amina, con la matita, una semplice matita, vedete, e poi c'è il fissante poi come altro aspetta che guarda la nostra si sta registrando non vorrei mai che si bloccasse la registrazione e io ho finito di firmare come altro ho utilizzato stamani non ho utilizzato burro cacao questo non mi andava però ho utilizzato il blush insieme a questo qua questo pennello mi sta piacendo veramente tanto è veramente stra non so voi ma è molto pigmentato e devo stare attenta a quanto ne metto perché mi piace davvero tanto poi per picchiettare tutto che ne ho messo veramente un quintale di blush non sto scherzando ho utilizzato questa qua questa beauty blender per smorzare un po' il tutto poi cos'altro c'è allora il bronzer non l'ho utilizzato stamattina quindi neanche ve lo faccio vedere però in compenso questo è anche il video dei regali oltre al beauty face di stamattina perché purtroppo ahimè mi sono struccata non ce la facevo più mi hanno regalato come per natale 2023 questa palette che ovviamente era messa qua questa sacotta della sapone e profumi questa mi hanno regalato questa qua pupa palette che è bellissima adesso ve la faccio vedere ed ha c'era qualcosa si mi sa che l'ho perso ah no è qua ok scusate stavo guardando la la pelina che è qua ok questi sono i miei i miei ombretti non so come farli vedere comunque questi sono gli ombretti e e poi cos'altro c'è ah lo spoiler qua dietro come avete visto di questi ombretti poi mi hanno regalato la spugna le spugnette gli ammattini di chiesi ovviamente e e niente spugnate guarda non sia che non stiamo registrando si sta registrando ma la batteria qua si scarica ma vabbè e queste sono le spugnette che sono tre di maccherone vedete maccherone e niente questo ragazze era tutto perché era veramente tutto e se il video vi è piaciuto grazie ancora dell'ascolto e ci vediamo perché no a un prossimo video ciao ragazze a presto e non so quando riuscirò a fare altri video perché questa macchina ripeto è un po' non dico vecchiotta però ai suoi anni non è molto vecchia ma non è anche tanto così vecchiotta però una via di mezzo dai io vi saluto e grazie ancora e grazie ancora per seguirmi così con tanto amore grazie di cuore un bacio ciao ah siete ancora lì ok dunque vi ho detto tutto sì perché vorrei essere sicuro di non essere dimenticata niente un bel like un bacio a voi un abbraccio tenero 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 e al prossimo video ciao ciao